ciao ragazzi e ragazzi come avete letto dal titolo questa è l'agenda che mi ha commissionato milena e ve la faccio vedere come l'ho fatta perché lei ha detto anna ma che me la spedisci la volevo vedere il video allora io sono quattro giorni che so senza computer e voi direte ma come c'è a davide che programmatore non dell'aggiustato ancora no perché sta lavorando sta facendo dei lavori urgenti e quindi non ha avuto il tempo di aggiustarmi il computer e quindi mi sto allangiando con quello minuscolo ma per esempio per caricare il video i video ci metto una vita infatti non lo so quanto tempo ci metto per caricare quello di milena però lo devo caricare non fa niente pure se ci vuole più tempo pazienza perché non lo so davide quando mi aggiusterà il il computer già sono quattro giorni mi sento male senza computer con quel coso microscopico così il tablet non te ne dico proprio si blocca e quindi queste niente ragazze voglio far vedere come ho fatto l'agenda mi a milena allora il tema era parigi di divisori poi naturalmente tutta la decorazione l'ho fatto un po a piacere mio naturalmente è pucciosa e lilla sempre fatto con la gomma crepla e rosa dopo di questa qui di milena non subito perché le sto facendo ancora bisogna ancora di un po di tempo anche letizia me ne ha commissionato altri due allora quindi letizia sto ancora facendo perché ne sono due allora e quindi questa qua vi faccio vedere questa qua di milena allora ora la chiudo un attimo aspettate aiuto allora ragazze io non tengo tutti i materiali ve lo ripeto a dire faccio tutto a me non sono perfette come altre persone che hanno più materiale allora eccola qua così si porta fuori allora lei non ha voluto la 5 l'ha voluta più non come quelle delle bambine che sono più larghe anche perché quelle lì ci vuole più tempo per farle perché dove vado a comprare io i fogli che poi ora sono andata a ruba questi fogli si deve attaccare un altro pezzo quindi è più particolare perché il foglio è poco di questa grandezza e ne devi attaccare comunque due per fare tutte per farla più doppia in poche parole resistente allora qua ho scritto il suo nome milena poi ho messo tutte queste decorazioni gli angioletto e questi brillantini con queste cose qui allora che cosa ho fatto il portapenne allora la penna ora voi io non l'avevo non l'ho non l'ho messa perché la devo fare ancora perché vedrete dei video dove faccio anche le penne fai da te perché in poche parole andrò a prendere una bic e poi ci faccio io la penna voi vedrete io sto facendo le penne le cartelline so fa mi sto mi sta proprio rilassando fare questa cosa mando un bacio a erica perché troppo bello questo fare queste cose tutte fucciose no ma perché veramente ti rilassa tantissimo fare queste cose poi una soddisfazione quando detto oddio l'ho fatta veramente io grazie naturalmente pure il video che ha fatto paola perché se no non avrei mai imparato come si mettevano gli anelli e quindi mi piacciono troppo ma pure per fare di regalini nelle cose sono cose che tiene solo la persona che le tiene allora che cosa ho fatto siccome sotto io gli ho messo una pocket letter voi sapete che cosa sono le pocket letter ho detto se metto la penna lo metto qui non si vede più non si vede la penna e quindi l'ho attaccato qua quindi questo è la parte di avanti e si apre ecco qua madonna speriamo che ce la faccio allora e quindi così si apre qua ho messo un segnalibro con la manina di fatima che io adoro la manina di fatima qua ho messo vabbè dove per non fare rovinare la gomma crepla e quasi apre e comincia allora vedete a me fatto tutto col biadesivo io non uso la colla perché alla mela colla a caldo mi 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 nervosisce no la pistola tutte quelle cose non è meglio il biadesivo per me allora vedete ho messo qua ho messo dove metto la dove si mette dove si mette la penna poi qua ho fatto una taschina dove ci vanno le cose dentro si possono mettere attaccate fuori queste sono carte scrabbi che ne ho ancora e qua ho messo questo segnalibro che può spostare dove vuole non lo so se si vede tutto la stanno tutte le clip che ho fatto orsetti cuori cucettosi e qua ci sta la manina di fatima questo lo può spostare con gli anelli dove vuole lei qua ci sta un'altra taschina sempre carta scrabbi in che ragazze si vedono quando sono carte scrabbi e carte da regalo la differenza ci sta allora questo è il primo disegno che io ho fatto naturalmente se lo colora lei e naturalmente è un foglio normale e quindi se lo colora lei se lo può fare con lo scotch qua gli ho messo il buscita parigi che ho trovato meno male che l'ho trovato questo perché ragazzi non si trova sempre tutto che l'ho trovato e qua ci ho messo gli orsettini che mantengono vedete tutti i fogli che io gli ho messo perché io l'ho detto detto milena settimetro troppi fogli va a pesare il foglio voi non la come l'agenda perché ragazze i fogli ne posso mettere pochi poi siete voi che mettete i fogli dentro e quindi questo è il primo perché sennò vi costa di fogli poi l'agenda non mi non conviene più guardate quanto è bella trovato questa ragazza che si colorerà lei col cagnolino con visto questo alla clip con i cuori è sempre ci sono guardate quanti fogli non è che ne metto pochi naturalmente qua vi faccio vedere che ho messo anche quest'altra cosa una tab che lei si sposta dove vuole lei e quindi aiuto perché non voglio fare il video lunghissimo se no con questo computer ci mettono la vita e quindi e questa e sono altri fogli poi ci sta quest'altra acqua l'ova sempre con la torre scritto sopra paris che lei si colora gli ho messo altri non so quanti fogli comunque li ho messi i fogli poi ho fatto una sezione di youtube allora io a parte dentro la a parte dentro sempre la bussa gli metterò tutti i divisori per esempio ci metto dove le si fa delle si farà delle copie vedete per esempio ora qua non l'ho fatto vedere ma ci sono anche dove lei gli ho fatto anche un altro cosa perché lei non fa video però non si può mai sapere si decide che vuole fare pure lei video si fa le fotocopie e le tiene gli metterò anche ragazze che seguo su youtube quelle preferite quelle che guardo di più e gli ho fatto anche questi divisori così gli ho messo altri fogli quindi youtube io poi le metto a parte tutte le clip le levo perché se no la possa mi distrugge le clip e le metto tutte quante nella bustina qua io ho fatto un'altra taschina che lei può scrivere qualcosa qua sopra questo è un altro divisorio dove ci sta vedete qua c'è questa clip guardate com'è bellina gli ho messo la mollettina e lei qua può scrivere quello che vuole madonna come sono belle queste cose ha ragione erica e quindi ecco è questa lei si scrive questo è per la casa vedete tengo scritto la la checklist che lei si fa la copia di servizi qua ci sono altri fogli bianchi poi io tutti questi modellini e le metto a parte così lei si fa le fotocopie altri fogli attaccati e quindi così tutti questi fogli vedete quanti fogli c'è i fogli li metto non è che non li metto proprio poi qua c'è un'altra sezione paris sempre con questo qua c'è un altro vedete più grande che si scrive quello che vuole lei gli ho messo la mollettina e quelle la possa li distrugge se non li levo aiuto e poi qua ci sono guardate quanti fogli vedete quanti fogli ci sono i fogli non è che non ci sono un'altra bustina sempre che si mette quello che vuole lei altri fogli un'altra bustina sempre queste carta scrabuti ragazze si vede quelli qua ci sono altri fogli e quindi speriamo penso che gli piace no è più migliore di questa non la potevo fare per i soldi che mi sono presa ragazze più di questo perché sennò veramente gratis hanno ragione le ragazze che fanno queste cose allora è quindi così ora viene la pocket lettera ragazze voi sapete che cosa ci sono varie che ragazze che lo sanno sarebbero tutti i regalini che vengono messi dentro a queste cose di plastica buste di plastica gli ho messo poi lei può mettere quello che vuole nella pocket lettera allora gli ho messo le roselline gli ho messo questo qua ci ho messo i brillantini e ho chiuso qua delle carte di scrapbooking quale roselline o questo qua ci ho messo i fogli qua ci ho messo tutte queste attascine che lei vuole fare quattro e tutti questi quasi può fare le clip ancora qua ci ho messo un angioletto e quindi tutti questi regalini pensierini e poi lei si può mettere quello che vuole nella pocket letter e quindi queste e poi si chiude così e si mette l'attascino qua ecco qua poi si gira e qua gli ho messo un aglio gli ho messo un'altra un'altra taschina altre cosettine e così e niente ragazze questa è l'agenda guardate quando si chiude vedete com'è bella io spero che a milena ci piace perché veramente l'ho fatta proprio ho detto ma devo fare bene perché come ecco qua poi vedrete anche le agende di letizia che allora lei mi ha fatto due temi letizia mi ha fatto un tema su gesù con la gomma crevola bianca sono stata fortunata con letizia perché gli ho trovato i materiali e quindi figurate io adoro io la preghiera gesù quindi è bellissima per me il bianco era la luce quindi ho detto no letizia quello che il tema gesù deve essere bianco e invece il tema quello lì verde e la felicità quindi non lo so come usciranno quelle altre due perché poi è proprio sono cose che ti nascono sono creative c'è fantasia tu devi tenere la fantasia di farle e niente ragazzi quindi questa qua dico io ti levo tutte queste cose milena perché se non me le distruggono capito pure la pinna della metti tutto e la fai tua tanto te la devo fare non fa niente la vedi come sorpresa poi la pinna e niente e quindi ragazze e questa è l'agenda ora stacco perché ci 11 minuti penso che ci vogliano quattro ore ora a fare il video e niente ragazze se a qualche ragazza naturalmente ragazze metto la mia pagina facebook del mondo cartopazzo e che vuole essere fatta l'agenda mi commenta e io gli faccio gli preparo l'agenda ragazze penso che vi ho detto più di questo non più poco di quello che metto perché io non ho idea quando ora mi costa la spedizione infatti con le tizie con milena ho parlato voi lo sapete vedete quanto costa sulla raccomandata la spedizione e niente ragazze mi mando un bacio ciao milena e ciao ragazzi al prossimo video